Buonasera e ben ritrovati a Vite d'Atleta. Torniamo a parlare di nuoto quest'oggi e ho il piacere di avere ospite Simone Ruffini, la campione del mondo su 25 km in acqua libere. Simone, buonasera. Buonasera. Un piacere averti a ospite, un piacere per Livigno aver avuto tra gli ospiti anche voi della nuoto in acqua libere. Dopo la presenza della nazionale di nuoto, come si chiama? Nuoto, di nuoto, sì. Anche voi di acqua libere, come vi trovate? Ora ci stiamo trovando bene, ci siamo adattati un po' ai primi giorni, adesso ci troviamo bene, abbiamo dei buoni spazi acqua, riusciamo a allenarci in maniera buona. La quota si sente? La quota sì, all'inizio si è sentita, poi adesso è tutto a posto. Ci si abitua? Sì. Certo che abituati a nuotare in spazi così ampi come il mare aperto, puoi ritrovarsi in una piscina da 25 metri, 8, 9, 10 bracciate e poi ritorno, non vi annoiate? Beh no, non è il massimo. Però a casa tutto l'anno ci alleniamo, perlomeno personalmente, al mattino mi alleno sempre in basca da 25, quindi non è nulla di nuovo allenarmi qua o a Roma sempre in basca da 25, è normalissimo. Una stagione agonistica che sta per ricominciare, tra pochissimo la prima tappa di Coppa del Mondo? Sì, tra poco la prima gara di Coppa del Mondo in Argentina e poi tutte le altre. E così via, una stagione lunga, ho avuto già l'occasione di avere ospite Rachele e mi accennava la vostra stagione lunghissima, parte da settembre? Iniziamo sì a settembre e finisce, dura quasi un anno perché finisce a ottobre, è bella impegnativa. Quante gare di Coppa del Mondo svolgete in un anno? Ma di gare di Coppa del Mondo ne faremo 6 o 7 perché qualche gara dovremmo saltarla perché saremo impegnati con i mondiali, quindi sì, verranno fuori la fine 6 o 7 gare. Distribuite un po' in tutto il mondo? Sì, in tutto il mondo si gareggia. Ti ricordi dove? Gareggeremo a Viedma nella prima tappa, poi a Budabi, Setúbal la terza. Dov'è scusa? Sì, in Portogallo e si gareggerà nel periodo di giugno. Ci saranno due gare in Canada, non sono al posto perché non sono mai andato e poi dovrebbero essere le ultime due, una in Cina e una a Hong Kong, la finale. I bacini, i mari sono sempre gli stessi o le tappe variano? Ma quasi sempre sono sempre gli stessi. Ogni tanto c'è qualche cambiamento, soprattutto con la Cina, negli ultimi anni si è cambiato. Avete occasione anche di fare un po' i turisti quando andate in questi luoghi così? Purtroppo no, mai pochissimo. Riusciamo a girare poco anche perché i tempi sono sempre molto ristretti. Partiamo dall'Italia, arriviamo massimo due o tre giorni prima la gara, quindi ci alleniamo, varie riunioni tecniche per orari di gara, si gareggia e il giorno dopo si riparte subito perché comunque c'è una programmazione da riprendere il prima possibile. Si cerca di perdere meno tempo possibile così da potersi riallenare subito perché comunque la Coppa del Mondo sì è una gara a cui noi teniamo, però la usiamo anche come allenamento. Il nostro obiettivo comunque rimane sempre, ad esempio quest'anno c'è il mondiale a Budapest e quello sarà l'obiettivo più importante. Ok, penso però che come mondiale così come per le Olimpiadi ci andrete qualche giorno prima per adattarli. Sì, per queste gare si va molto prima, ovvio. Dipende anche dal posto, in Brasile per le Olimpiadi siamo stati molto tempo prima per adattarci al clima, al fuso orario. Quest'anno il mondiale sarà a Budapest, comunque qui vicino non c'è una grande variazione climatica quindi penso che si andrà là una settimana prima. Budapest sarà ovviamente un bacino. Sì, gareggeremo nel lago Balaton. Beh, bello. Sì, bel posto. Che cosa preferisci tu? Baccini, laghi, mari? Ma all'inizio quando mi sono approcciato al nuoto di fondo preferivo il lago che c'era un'acqua più ferma e mi sentivo più sicuro anche nel nuotare. Ora invece preferisco un bel mare, un bel mare, anche se è mosso mi dà piacere nuotare. E se nel mare mosso ci sono anche dei pesci, degli squali o quant'altro? Beh, squali speriamo di non incontrarli perché non è il massimo. Il più sono le meduse che sono un po' ostiche però al primo impatto fanno un po' paura poi speriamo di non toccarle. Assolutamente. Beh, io l'ho detto ridendo e scherzando, però essendo anche le vostre gare di una certa distanza 25 ed anche oltre se si tratta di Grand Prix, non c'è mai il rischio di imbattervi in squali? Ma per ora non è mai successo nessun episodio con squali o quant'altro. È vero che quando si decide di gareggiare in un posto, comunque è un posto sempre abbastanza sicuro dove già si è gareggiato parecchie volte prima. Quindi diciamo che è un bacino già controllato. E poi siamo controllati molto durante la gara. Abbiamo più barche che ci controllano e poi è ovvio, può sempre capitare di tutto. Da quest'anno è permesso l'uso della muta, questa è una regola impartita appunto dalla Federazione Internazionale. Come l'avete presa voi nuotatori? Insomma è una grande novità, una rivoluzione? Sì, questa novità, ovvio, la muta si potrà utilizzare sotto i 18 gradi. Quindi raramente si gareggerà in acqua sotto i 18 gradi. Tra i 18 e i 19 sarà facoltativa, sotto i 20 sono pochissime comunque le gare in cui si userà la muta. Però ovvio c'è qualche nuotatore che sarà agevolato da questa cosa e qualcuno no. Da una parte per una sicurezza io penso che sia una buona cosa l'ingresso della muta perché ecco, quando si gareggia in acqua fredda può capitare di sentirsi male. Con la muta è una sicurezza in più. Ovvio, per come sono io fisicamente magari preferisco che non venga usata la muta. Come mai questa distinzione? Chi sarà avvantaggiato e chi no? Beh, un ragazzo magari più pesante, più alto, lui è agevolato alla muta. Che galleggerebbe meno. Galleggia meno, con la muta si trova, magari si trova a parità di me. Certo. E quindi non è il massimo, però alla fine la gara è gara, ognuno fa il suo e si vende gare alla pelle comunque. Comunque dicevi, se difficilmente troverete acqua di sotto dei 18 gradi. Sì, sarà molto difficile, sì. Dove potrebbe essere? In quali luoghi? Canada sicuro, Canada sicuramente si utilizzerà la muta perché comunque sono laghi che durante l'inverno sono ghiacciati. Forse il Portogallo perché varia molto la corrente e quindi negli anni si trova l'acqua intorno a 18 e altri anni si è trovato acqua più calda. Quindi quella potrebbe essere un'altra tappa dove si può utilizzare questa muta. Simone, ci racconti della tua esperienza olimpica di Rio? La mia esperienza olimpica è stata bella, mi sono divertito, mi sono divertito molto. È stata una gara all'inizio quasi diversa perché c'era tutta un'altra atmosfera rispetto a un mondiale, a un europeo. Ho provato sensazioni diverse anche nell'approcciarmi nei giorni prima a questa gara. Era una cosa nuovissima. Era per te la tua prima olimpiade? Per me è stata la mia prima olimpiade quindi il fatto che la parola olimpiade un po' mi ha spaventato perché comunque noi parliamo della manifestazione più importante a livello sportivo che c'è. Quindi un po' spaventa. Poi alla fine una volta che mi sono buttato è stata una gara come le altre, non c'è stato nulla di differente. E quindi dovevo solo aspettare il momento dello starter e via. Che aria si respira nel villaggio olimpico? Ma non siamo stati, noi del fondo non siamo stati nel villaggio olimpico perché era troppo lontano rispetto. Noi gareggiavamo a Copacabana e era molto lontano rispetto al villaggio olimpico quindi anche per spostarsi e tutto. Quindi abbiamo la federazione e il Cone hanno trovato una soluzione più vicina proprio sul campo gara così da poterci far stare più tranquilli. Da una parte va bene essere più tranquilli però dall'altra parte è un peccato non poter vivere queste sensazioni. Sì, però io penso che alla fine dipende anche con quale obiettivo uno vada. Secondo me se uno va con un buon obiettivo o comunque l'obiettivo di fare il massimo, di dare il meglio, quella che si è trovata per noi come soluzione è stata la migliore. Ovvio non abbiamo vissuto sì il villaggio olimpico, tutto quello che c'è intorno all'Olimpiade però forse si rischiava poi un po' di perdersi in questa grande festa che poi alla fine è l'Olimpiade. Hai ragione, assolutamente. E come è andata a livello agonistico la tua Olimpiade? Ma a livello agonistico forse mi aspettavo qualcosa di più, forse qualche ha giocato un po' la tensione, un po' di pensieri, non so. Però alla fine sesto posto, mia prima Olimpiade, sono non felice di più. Beh certo, tu comunque arrivavi con il titolo di campione del mondo sulle spalle, c'erano anche molte pressioni su di te, sei stato deluso? Ma alla fine io sì, venivo e ho tuttora il titolo di campione del mondo ma comunque è una distanza che è la 25 km, quindi parliamo di una distanza molto più lunga. La 10 sto lavorando molto su questa gara perché comunque il prossimo obiettivo sarà quello di partecipare a Tokyo. E quindi è una gara molto diversa, è una gara in cui ancora non sento proprio mia, sto migliorando molto ma ho ancora da lavorare per fare veramente un buon risultato. Certo, anche perché insomma se tu sei specialista sui 25 km e la gara olimpica è stata sui 10, è praticamente come un mezzo fondista dell'atletica mandarlo a correre un 100 metri. Eh sì, più o meno. Più o meno, una cosa del genere. Come sei nato nuotatore? Io sono nato nuotatore e non sono nato nuotatore, all'inizio quando la mamma l'aveva portato in piscina è stato un vero trauma per me perché all'età di 5 anni odiavo l'acqua, in mare invece ci sguazzavo. In mare sì, non uscivo mai, in piscina però è sempre stato un trauma fin da piccolo, ho iniziato a nuotare con il ricatto della mamma che diceva se oggi fai il bravo, se oggi non piangi, la mamma ti compra, ti regala qualcosa. Allora così poi un po' diciamo che ha lavorato molto sotto questo aspetto la mamma, poi piano piano ho visto che nulla mi piaceva, mi piaceva sempre di più. Uno dei periodi non sarei mai uscito dall'acqua, non sarei mai stato a casa, mi sarei allenato tranquillamente tutto il giorno. Quindi diciamo che poi alla fine è diventata una passione e adesso lo coltivo anche, è il mio lavoro. Certo. Hai avuto un buon passato anche in Vasca. Dopodiché c'è stato il passaggio in questo mondo delle acque libere. Come mai e quando è venuta? Ma già comunque all'età di 16 anni, ho iniziato a fare le prime gare, 15-16 anni, perché in mare o in lago, perché si vedeva che finivo il 1500 che era la gara più lunga che c'è in Vasca e comunque non ero stanco. Anche lavorando in maniera molto pesante o comunque per quel pesante che si poteva fare a quell'età, comunque non mi stancavo, riuscivo a tenere dei buoni livelli per più tempo. Quindi abbiamo detto proviamo, andiamo, facciamo la gara, a quel tempo c'era, per i più piccoli c'era il 3 km, quindi proviamo la 3 km. Poi da lì abbiamo comunque sempre continuato con la 5 e poi più tardi è entrata anche la 10 km. La 25 è stata proprio così, proviamo, facciamo questa gara più lunga, tanto ti serve esperienza. Io quando ho fatto la mia prima 25 km l'allenavo a Pesaro, con l'allenatore che mi seguiva abbiamo detto proviamo la 25, ti serve esperienza, buttati. E l'ho vinta, ho vinto il campionato italiano e quindi... Qual è la gara più lunga in campo di Coppa del Mondo, mondiali? Ma di mondiali è la 25 km, poi nel Grand Prix ci sono gare più lunghe, addirittura 57 km, non so se vanno ancora oltre ma cose allucinanti. Per adesso e poi magari tra qualche anno. Per adesso ancora non ci pensiamo, magari tra qualche anno. Qual è stata per te la gara più lunga a cui hai partecipato? La 25 km. Oltre ancora non vado. Beh, anche perché quanto stai in acqua in una 25? Eh, dipende dal ritmo, comunque variamo dalle 5 ore, 4 ore e 50 fino alle 5 ore e mezzo che mediamente è un campionato italiano, magari che è un ritmo un po' più tranquillo. E come si gestisce una gara così lunga in un ambiente un po' dove l'imprevisto è dietro l'angolo? Beh, una gara così lunga si gestisce con tanta calma e tanta pazienza perché comunque parliamo di 5 ore di gara, quindi ci si anima di pazienza e coraggio, ci si butta e per i primi 17 km si cerca di stare il più tranquilli possibili. Si sta in gruppo, si sta in gruppo, non si spreca nessuna energia, non si fa nessuna cavolata che si prende e si prova a strappare, si sta veramente tranquilli, ci si fa portare dal gruppo, si cerca di non menarci, di non scontrarci con nessuno, è comunque il nostro uno sport di contatto. E poi si cerca di nuotare bene soprattutto per cercare di lasciare i muscoli abbastanza tranquilli, soprattutto quelli alle spalle, quindi si nuota abbastanza rilassati. Si ha il tempo di parlare in gruppo mentre si nuota? Mentre si nuota, magari al pontone quando si fa rifornimento, ma hai pochissimo, si tratta di 10 secondi in cui te prendi il bicchiere, bevi, magari chiedi come sei in posizione, se c'è stata qualche azione e al massimo a quanti giri sei, però già sai tutto più o meno, se sei abbastanza concentrato già sai e non chiedi nulla. Tra di voi in gruppo assolutamente no? Tra di noi, magari ecco, se si può fare una strategia di squadra, ma siamo solo in due per ogni gara, quindi due per la 5, per la 10 e per la 25. Nella 25 magari ci si può aiutare se si è in squadra, però bisogna vedere anche in che condizioni si è, perché magari arrivi a 20 km e un ragazzo è lucido e l'altro un po' meno, quindi diventa anche difficile il gioco di squadra, perché la persona meno lucida può dire guarda, fai quello che vuoi, io non ce la faccio, il mio obiettivo è solo arrivare alla fine, perché comunque già arrivare alla fine è una bellissima cosa. Che cosa assumete durante i rifornimenti? Durante i rifornimenti si parla soprattutto di sali e maltodestrine e ogni giro prendiamo dei cirpa che sono degli zuccheri, lasciamo sempre dietro anche degli antinfiammatori o comunque dei prodotti per lo stomaco o addirittura delle barrette lasciamo, perché comunque è una gara così lunga, è vero che facciamo una colazione, già partiamo con la cena abbondante e tutto, una colazione comunque si mangia, però in gara può capitare che ti viene una crisi di fame, quindi mangiare non è sconsigliato. Simone ci racconti le 24 ore prima di una 25 km? Le 24 ore prima sono abbastanza snervanti, perché è vero sì che devi stare rilassato e tranquillo, perché la gara è lunghissima, e quindi cerchi di non pensarci, io metto sulle cuffie e ascolto tantissima musica che poi il giorno dopo il loop va avanti. Hai un genere preferito? Ma no, sono abbastanza particolare, però non ho un genere preferito. Ok, quindi la cena mi accennavi? Io sì, parte tutto dalla cena, perché comunque mangiamo, la nostra alimentazione è importante, mangiamo molti carboidrati, iniziamo già dei periodi prima, perché magari bisogna mettere su qualche chilo, e nel dopo cena è nulla, ci si prepara tutti i rifornimenti per il giorno dopo la gara, quindi c'è chi preferisce farlo all'allenatore, io personalmente preferisco farlo, quindi preparo tutte le bottigliette precise, numerate, così chi sarà sul pontone saprà che ogni giro mi deve dare la bottiglietta con il numero che c'è sopra, in base al giro, ogni bottiglietta, come tutti gli ingredienti, perché sono non preciso di più, quindi tutto quello che fa messo, sono quasi maniacale, prepari le borse e poi si cerca di andare a letto presto, perché la notte prima della gara, dormire non è facile, e poi quando ci sono queste gare lunghe, la partenza è anche prima rispetto alle altre gare, bisogna stare sempre sul campo gara, mediamente due ore prima. Quindi una partenza, l'orario avviene alle circa? Sì, mettiamo che la gara parta alle otto e mezzo, noi dobbiamo essere otto e mezzo, anche nove facciamo, però dobbiamo essere sul campo gara già alle sette, quindi sveglia alle cinque e mezzo, e quindi bisogna andare a letto presto. La pioggia, le intemperie? Beh, quelle sì, possono condizionare la gara, anche perché se c'è una pioggia molto forte, la gara può essere sospesa, anche la temperatura del mare, la lago, quello che sia, può variare la gara. Hai accennato, poc'anzi, al fatto che dobbiate mettere peso, per quale motivo? Beh, soprattutto perché comunque in queste gare molto lunghe si perde peso, e poi io personalmente devo mettere il suo peso perché comunque durante l'anno, con i chilometri che immaginiamo, perdo peso, e magari qualche chilo in più non mi fa male, anche perché comunque bruciamo molti grassi durante la gara, che sono quelli che ci hanno più energia. Certo. Quindi non fa male avere qualche chilo in più in queste occasioni. Guarda, sei praticamente il primo e l'unico sportivo che hai sentito seduto su questo seggio là a dirne questa cosa, ma effettivamente lo sport porta a questo. Assolutamente. Tra l'altro, se non dico una cavolata, il grasso fa rimanere a galla? Ma quello del farci rimanere a galla, alla fine noi non lo sentiamo molto. È il più che, se l'acqua è molto fredda, magari un po' di grasso ci aiuta, perché senti un po' meno freddo. Quindi, sono anche quelle che facciamo delle strategie alimentari anche per questo. Simone, durante un anno quanti chilometri macini? Se hai una statistica. Una statistica non ce l'abbiamo, però nei periodi di carico superiamo i 130 chilometri settimanali. Quindi parecchi. E invece durante 5-6 ore di gara, che cosa pensi? A parte passare qualche canzone ogni tanto, nulla. È come per uno studente universitario l'esame, o per uno studente che ha un esame che dura 4-5 ore. Per noi è uguale. Sono 5 ore in cui sei super concentrato su ogni minimo aspetto. Quindi, alla fine, non pensi molto. Sei solo concentrato, inquadrato su tutto quello che devi fare. Magari se hai già una strategia impostata con l'allenatore, quindi aspettare il momento giusto per attuare questa strategia, portare pazienza, star tranquillo. E questo, alla fine dei pensieri al di fuori della gara ce ne sono pochissimi. Si, entra in una sorta di transagonistica. C'è un bel clima in squadra? Viaggiate sempre uomini e donne assieme? Oppure vi dividete gare maschili e gare femminili? No, no, no. Viaggiamo quasi sempre assieme. No, no, quasi sempre. Sempre assieme. Sempre? Sì, sì. La gara è sempre sia maschi che femmine. Insieme. Magari c'è una di 5 minuti o 10 minuti tra una partenza e l'altra. Quindi ci muoviamo sempre assieme. Tutta la squadra. Dipende da quanti sono i partecipanti, ma ci muoviamo tutti assieme. Siete una piccola grande famiglia. Sì, ormai sì, siamo una grande, no, nemmeno tanto piccola, perché siamo una bella famiglia. E sì, ci spostiamo insieme tra i vari collegiali e gare e tutto. Ci si conosce ormai da parecchio tempo. Dove risiede il centro federale? Se esiste? Il centro federale è proprio, beh, c'è la federazione che ha sede a Roma, poi ognuno si allena nei vari posti. Però ai collegiali non c'è un luogo? Con le gialli no, dipende, c'è una scelta tecnica che viene fatta magari dal CT e dal VCCT e si va là. Qual è il luogo più bello che tu abbia mai visitato da notatore? Da notatore mi è piaciuto molto il Messico, perché comunque c'è il mare che è bellissimo. Quindi io ho un legame fortissimo con il mare, anche se sono nato in un paese dove non c'è il mare. È una cosa che mi sento dentro e che mi... non so nemmeno come spiegartela poi. Quando vedo il mare mi vengono gli occhi a coricino. Un richiamo. È un richiamo, quindi quando c'è il mare bello per me, qualsiasi posto è, va benissimo. Beh, in effetti se poi ho scelto questa disciplina veramente c'è un richiamo che vi lega, assolutamente. Hai mai avuto incontri particolari in acqua? Non lo so, delfini? Ho incontrato sì, non durante la gara, però sempre in Messico ho incontrato tre delfini in mare. È stato bello perché l'ho visto passare alla spiaggia, ho iniziato a correre, mi sono buttato, notato verso di loro e è stato bello perché hanno iniziato a girarci, eravamo un gruppo di atleti, hanno iniziato a girare intorno a noi e nulla, sono riuscito a toccarne anche uno, quindi è stata un'esperienza bellissima. Il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto? Ma ora diciamo che sarebbe quello di partecipare a Tokyo e fare un bel risultato. ma perché lo voglio io, se no per il resto adesso un vero e proprio sogno, ho qualche sassolino da togliermi, ecco, tutto qua. Che scuola hai frequentato? Io ho fatto liceo scientifico, ho provato con l'università ma poi con gli allenamenti era veramente difficile, quindi dopo due anni ho mollato perché comunque gli allenamenti sempre di più, sempre più lunghi e tempo per studiare sempre meno. E' il più che anche quando ci sono dei periodi che si è nuvato un po' meno, magari dici, mi rimetto a studiare. Quale facoltà, scusa, avevi intrapresa? A scienze motorie, anche perché comunque non facevo moltissimi allenamenti, quindi avevo del tempo per studiare. E poi con gli anni allenamenti sempre più, sempre più lunghi, metti sempre un qualcosina in più, con la palestra, fisioterapia e quindi tempo sempre meno. Quest'anno mi ero promesso di ricominciare a studiare, dopo l'olimpiade ho detto vorrei ricominciare a studiare ma sto vedendo che è veramente tosta. Magari in un periodo in cui non faccio molti chilometri in acqua, la sera finisco prima l'allenamento e dico cavolo, però adesso avrei del tempo per studiare. Però la staggezza? No, magari ecco, lì non sono tanto stanco, però poi quando si inizia a lavorare seriamente non ce la faccio. Arrivo in camera, ho finito l'allenamento, ho buttato sopra il letto e niente, normo. Beh, è una vita praticamente dedicata al noto. Sì, è una vita, ma come per tutti gli sportivi, è una vita dedicata allo sport che si fa. Sì. Hai degli hobby? Gli hobby sì, mi piace molto leggere, ascolto molta musica e poi mi piacciono molto i film. Rilassanti, perché insomma abbiamo detto la fatica. Sì, sì, comunque tutte cose da fare sul letto e sul divano. Siamo ormai in chiusura, Simone. Da grande che cosa farai invece? Cavolo, da grande è tosta. Beh, per altri quattro anni vorrei ancora nuotare a dei buoni livelli. Poi dopo vediamo, ma ancora non ho un'idea chiara su quello che sia il mio futuro. Vorrei rimanere nell'ambito del nuoto e magari far veramente qualcosa di buono, soprattutto per il settore fondo, e farlo conoscere a più persone possibili. Beh, sei molto giovane, classe 1989, ti auguriamo magari altre due Olimpiadi, non solo la proposta di una magra. Altre Olimpiadi non lo so, però ne accontento un'altra, sarebbe bellissimo. Hai un idolo sportivo? Un idolo sportivo? Beh, da marchigiano, oltre a Valentino Rossi, il mio idolo sportivo è Fabian Cancellara, e quindi stravedo per lui, anche se ormai ha smesso. Beh, sì, però è stato un gran campione. Pratici il ciclismo? Mi diletto. Mio padre che fa triatron, quindi bici a casa non ne mancano, ed estate, nei periodi di vacanza, sì, mi piace molto andare in bici. È tutto, ti lascio tornare in vasca. Grazie. Grazie davvero, è stato un gran piacere e un grossissimo bocca al lupo. Sicuramente Livigno ti farà per te, per voi, nuovi amici della località. Crepi il lupo, grazie mille. Grazie. È tutto per questa sera, grazie per la cortesa attenzione, e vi rimando a mercoledì prossimo. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti